E' presto, persona 703, siamo svegli da un'ora e mezza E' bello vederti, grazie fantastico, è tutto molto bello, devi raccontare a tutti quanti chi sei e che cosa andiamo a fare oggi Allora sono Matteo Mura e sono qui di Selva, nato e cresciuto ai piedi della mitica Staslong che del 68 ospita la gara di Coppa del Mondo Ma andiamo a vederla insieme? Certo Volentieri, non vediamo l'ora Ma andiamo Grazie Matteo Ciao a voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti